Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Enzio! Siamo qui per aiutarvi! Fermate le guardie! Voi chi siete? Il vostro salvatore Il vostro salvatore Ho una nuova cura per la si L'hanno avvelenato Quel pallore Cantarella Bevete questo Presto! Dategli un momento Mi sento un po' meglio Le sanguisughe vi guariranno del tutto Non potrò mai ringraziarvi a basta La chiave di Castel Sant'Angelo Subito! Di che cosa state parlando? Io sono solo un povero attore Cesare sa tutto di Lucrezia e voi Tenete Va! Va! Presto! Credevamo foste morto, Serezio Non ancora Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle mura Lasciate che vada, aiuto le truppe Un momento Tu eri a Villa Auditore durante l'attacco Lasciate che vada, aiuto le truppe Lasciate che vada, aiuto le truppe Ora, fratelli! Perché sei fuggito? Io... Sei tu il traditore, non Machiavelli! Lunga vita e borgia! Diavolo! Avevo ragione! Devo impedire alla Volpe di uccidere Machiavelli! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Uno dei nostri uomini era alla villa durante l'attacco. Aveva con sé questa lettera. Mio Dio! Buone nuove? Più di quanto tu non creda. Ti sono di nuovo debitore, Ezio. Quale debito può esserci tra amici che si fidano l'uno dell'altro? Giusto. Grazie di avermi portato il messaggio in tempo. Vieni, Niccolò. È tanto che noi due non parliamo. So che alla rappresentazione al Colosseo c'è stato un fuori programma. Davvero? Pare che Gesù Cristo sia risuscitato con tre giorni di anticipo. Cure, pozioni, veleni! Ma che diavolo sta facendo? Grazie. Grazie.